La vedi questa scatoletta? Sì, certo, Steph, ma perché stai bisbigliando? Perché ha un potere incredibile! Ok, ma perché stai bisbigliando, Steph? Non lo so, volevo far scena! Lo vuoi vedere che cosa fa? Sì, Steph, lo voglio vedere! Guarda, eh! Pronto quando smetto di ridere, vai! Pronta? Hi, I'm Mr. Mikri! Guarda in faccia, Fere! È un po' inquietante, Steph! È un po' inquietante, Steph, che è? Vuoi scoprire che cosa fa? Certo! Te lo dirò presto, Fere! E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki! E sono Steph, che stai giocavo a Minecraft! E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui cercheremo di scoprire a cosa serve quella creatura strana che Steph ha tra le mani. Sei curiosa? Che cos'è? Che serve? Sei curiosa, Fere, Tina? E lo vuoi sapere? Allora, ti dico prima di tutto il suo nome. Si chiama Mikrip, ok? Ok. Viene dalla serie di Rick and Morty, quindi è ispirata da quello. Che noi non seguiamo, quindi non avrò la minima idea a chi si è ispirato, però va bene. Esatto, però ho deciso di provarla perché è lo stesso interessantissima. Ok. Allora, è una sorta di assistente. È come se pensi che finalmente Fere De Queen ha il suo assistente. Il suo schiavo vorrei dire. Fere assistente in modo gentile, ok? Schiavo, va bene. Impara assistente. Ok. Dimmi una cosa che magari vorresti fare su Minecraft, ma che non hai voglia di fare. Eh, boh, tipo scavare, scavare in miniera. Dai, fammi un accesso a una miniera. Ok. Ad esempio, il nostro Mikrip super mega assistente, se noi lo chiamiamo, guarda poi quanto è carino, perché è davvero carino. Cos'ha in testa, Stef? Sono i suoi capelli. Non lo so. Molto carini comunque. Vado? Dai, stai bene, sei bellissimo, vai. Pronta? Guardalo. Ok. Aspetta. Io però la sento solo versi strani, Stef. Mi ha detto che non lo fa, Fere. Come non lo fa? Non lo so, mi ha detto, non lo faccio. Stavo scherzando a fare ovviamente, so come funziona, non ci sono mica dei problemi. Sicuramente. Stef, ascolta, togliami un dubbio. Aha. Ok, vabbè, ho visto che gli stai lanciando le scale, vabbè, lo lasciamo fare. Perché ogni volta che lo evochi gli cambiano i capelli, gli cambia la faccia? Cioè, è multiforma. Perché è una persona espressiva, Fere. È una persona super espressiva. Se ti stai chiedendo cosa sto facendo, gli sto dando le scale, spostati che altrimenti le prendi tu, gli sto dando le scale che a lui servono per costruire. Torna su quando è finito. Non credo che torni, Fere. Non ho idea. Non ho idea lì su. Stef, mi fa tristezza. Ti prego, vallo a tornare. Aspetta. Non ce la faccio a vederlo così in fondo. Diamo lì al 364. Ma hai visto che poi le viene a prendere velocissimo e se ne arriva? Sì, 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 è straveloce. È un pazzo, Fere. Sarà arrivato? Io lo seguo. Vai, scendi, scendi. Andiamo a vedere se ce l'ha fatta. Ormai voglio vedere la buca. Sì, praticamente. È bella profonda. Dovrebbe arrivare fino al bedrock. Il suo obiettivo è quello. Infatti mi sa che ci è arrivato. Sì, 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 sì. Mi sa proprio che ci è arrivato, Stef. Perché io sto scendendo e vedo il tuo testone. Ma qui, aspetta, aspetta, attenzione. Ma che è successo? Aveva vinto le scale lì. Stef è morto, è scomparso. Cosa vuol dire? Non lo so, stava arrivando qua. Mi ha dato tutte le cose che sono rimaste. Ti farei notare che ci ha lasciato un diamante. Ah, non l'avevo visto, te lo sei preso tu. No, no, è lì, è lì, è lì. Ah, ecco, sì, non ci stavo facendo caso. Non so, Stef, magari scompare dopo che... Lui se ne va quando finisce il suo compito. Siamo arrivati fino al bedrock, quindi lui è soddisfatto e se ne è andato. Fino ad ora cosa mi dici? Ti sta piacendo come assistente o non sei soddisfatta? Sì, beh, non è male. Comunque la buca l'ha scavata anche molto velocemente, quindi mi sembra parecchio efficiente, Stef. Però che problemi ha una buca? Cioè, quando tu vuoi andare in miniera, ti piace scendere così tutto giù così o preferiresti avere proprio una bella strada? No, beh, certo, se c'è una strada un po' più comoda, un po' più agibile, di certo è meglio far comodo, Stef. Ok, allora, ti faccio vedere un attimino. Vediamo, ok, così, così. Mi piace vedere le sue facce. Vieni. Che sta facendo? Guarda, osserva. Ok. Ok. Stai veloce, fa paura. Stai ferma ed osservalo. Sta facendo praticamente la discesa, proprio la discesa, vero e proprio, verso terra con le scale. Esatto. E lui ti sta... È troppo bellino come lavora, poi ti guarda anche. Ciao, sto facendo bene, sono bravo, sto facendo bene le scale. Perché me lo immagino sempre con questa voce. Che cosa è che potrebbe prendere tutti i blocchi che li ho buttato in una sola volta, così non deve fare avanti e indietro? Ascolta, non lo criticare. Comunque è veloce, efficiente. Oh, prenditi questi. Non lo criticare. Ma come mi guarda? Mi stai guardando male? Stai, dammi altri blocchi. Mi stai guardando male? Ti spacco la faccia, eh. Ti spacco in due, eh. Lascioli in pace che sta lavorando bene. A me non piace molto, eh. Vai via. Fede? A me piace, a me piace. Mi piace vedere lavorare perché è molto bravo, Steph. È un po' lento, però. Non è vero. Guarda cosa ti ha già fatto. Tu non l'avresti saputo fare così veloce, scusami, eh. Guarda. Sono più veloce io. Sì, Steph, certo, certo. È una gara. È una gara, caro assistente. Vediamo chi vince questa gara. Anche se sono in creativi poi, in realtà, eh. Però... Quindi sei ridicolo. Smettila, dai. Vinco io. Dotti un difetto in questo sentiero che per ora ha creato. A parte il fatto che Steph è più veloce lo fa meglio. Non riesco a rispondere seriamente. Comunque c'è buio. C'è molto buio. Quindi tu scendi e non si vede niente. Wait. Ok. Ta, ta. Guarda. Mi sta seguendo? No, per niente, Steph. Sì, ora sì. Più a me. Hai sbagliato strada. L'altra, l'altra fossa. Allora. Nella fianco. Che stai combinando? Smettila. Spagna di nuovo strada. Mi stai guardando. L'hai vista bene la spada, vero? L'hai vista anche tu? Steph, nel frattempo l'altro sta andando in Cina. Non farmi quelle facce strane perché mi fai arrabbiare ancora di più. Steph. Seguimi. Che c'è? Sta finendo in Cina quell'altro. Lo so, Fere. Infatti vorrei che questo mi seguisse. Qua, bello. Ce la fai? No, non lì, non lì. Aspetta, aspetta. L'hai spinto però, Fere. Non l'ho spinto. Già, non capisce nulla. Sto cercando di tappare questa parte. Vai, vai dall'altra. Ok. Quella. Quella. Qui. Bello. Gira. Bravo, bravo. Ok. Vai, vai. Guarda, Fere. No, lì sotto devi andare. Secondo me lo buggi tu. Non lo buggo io. Sì, 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 sì. Vediamo se funziona, Fere. Vediamo se ce la fa, poverino. Teoricamente, amico, dovresti fare una cosa in particolare. Tutti stanno aspettando che tu la faccia. Eh, esatto. Perché non la stai facendo? Chiedo io, umilmente, povero Steph, che vorrebbe soltanto... Secondo me l'hai buggato, perché essendoci nei due lì hai buggati, Steph. È molto probabile. Dici, va da togliere l'altro e poi ci riproviamo. Sì, esatto. Bello, forza. Ce la puoi fare. Non mi deludere. Dai, metti una bella torcia. Perché non ti accorgi che devi illuminare? Perché non lo capisci da sola il tuo lavoro? Non lo so, non lo so. Sei nato per quello. Ma dove stiamo finendo? Aspetta, aspetta, aspetta. Ma perché l'ha messa lì? Perché probabilmente non riconosce questa scala artificiale che ha fatto il suo collega. Vedi che poi lo sta mettendo negli ambienti già creati di Minecraft. Bravo. Aspetta. Bravo, sta illuminando tutto. Ci penso io che sono un'assistente migliore, va? Non sei molto intelligente, però stai facendo un buon lavoro. Dai, però almeno negli ambienti giusti ci riesce. Guardalo, guardalo, guardalo. Fai, qua funziona, qua funziona. Sì, dai, non è male. Guarda, guarda, guarda. Allora sì, dai, dai, dai. Funziona, Steph. Ok, bravo, vieni. Continua a essere... Bravissimo, ma che bello assistente che abbiamo. E se ti dicessi che sa pure costruire una casa? Eh, vabbè, allora diventerebbe l'assistente perfetto, Steph. Anche se tu lo insulti non mi piace come ti comporti. Sei pronta? Sì, vai. Dovrebbe essere così. Non sclerare se non ci riesce subito, Steph. Perché sei tu un cattivo... Come si dice? Dattore di lavoro, sì. Perché in effetti gli stai dando dei lavori da fare. Ok, vediamo se ha bisogno anche di materiali in questo caso. Aspetta. Aspetta. Mi sembra che li stia prendendo o li stai prendendo tu? No, no, sta iniziando a scavare. Sta prima sistemando la zona. Ah, ok, ok. Ok, vedi? Adesso vuole la cobblestone. Amico mio, tieni, guarda, ti do tutte le stacche che vuoi. Ma è troppo, carino. Dagli anche del vetro. Farà le finestre, Steph? Non lo so, Fede. Sarebbe bello se le facesse. Nel caso ce le chiede lui da solo, ho capito? Ok, ok. Non le devi dare, perché lui, se tu gli dà le cose prima, si arrabbia, secondo me. Però ha dimenticato un po' d'erba in casa, eh. Devo dire, quel blocco, quella striscia. Non se ne accorge. Guarda, lascia... La porta. Sarà lo spazio per la porta? Sì, la porta. Ok. No, mi sa che non ne mette le finestre. Secondo me le mette, invece. Dici? Vediamo. Vediamo, vediamo. Vediamo come la farà. Guarda la faccia. Hai iniziato a usare il vetro, Fede. Ho visto. Però lo sta usando per il tetto. Forse glielo dovevamo dare prima. Non lo so. Oh, non so la sua idea di casa. Cioè, ha fatto un po' di luce sopra, è ok. E poi... Non lo so. Non lo so. Tu dagli in altro. Dagli cobblestone, dagli tanto vetro e vediamo un po' che combina. Sì, sì. Facciamo fare all'artista di casa. Sì, sì. Magari c'è anche una bella casa, eh. Comunque è troppo bellino. Cioè, guardalo, guardalo, guardalo. Cioè, fa tutto da solo. È tranquillo. Sempre la sua stessa faccia. Tiene sempre un'unica espressione perché è proprio... Ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. È tranquillo. Non si stanca nemmeno a fare queste cose lui. Perché è l'assistente perfetto. Guarda che voglio salire un po' anch'io per vederlo. Perché non sto vedendo bene. Eh no, dai, è carina la forma. Comunque sta seguendo una logica. Ha fatto un quadrato. Vabbè, dai. Con quattro quadrati di vetro, Fere. Ma non è che sia proprio... Cioè. Non lo criticare è troppo carina sta casa. Qua ti sei dimenticato un vetro. Ah, ecco, che bravo. Tranquilla, non si dimentica nulla lui. Non si dimentica nulla. E la porta non ce la metti, no? Questa è casa nostra. Ma ti dirò. Non è così brutta. Allora, se poi l'arredi... E poi mi piacciono comunque le finestre che la luminosità arriva da sopra. Se poi te l'arredi, secondo me, come rifugio base, ovviamente molto basile, non è male. Considerando che non l'abbiamo fatta noi, va benissimo. Esatto. Adesso ti voglio far vedere un'altra cosa che, secondo me, è tra le più belle dell'assistente. Ok, vai. Allora, mi vedi? No. Mi hai perso? Sì. Fere! Sì! Mi lontano! Io ti vedo, ma tu non mi vedi! Aspetta, salgo in alto! Come sempre! Dall'altra parte! Quale altra parte? Girotondo! Casca il mondo! Io vado qui sopra e... Casca la testa di Fere! Vieni tu qua, basta. Ma dai. Ma io avevo scelto un posto preciso. Anche questo è un bel posto. Vieni tu da me. No, fa schifo. Dai, ti ho visto, dov'eri? Ok. Vieni, facciamo qua. Allora. Anzi, va anche meglio. Noi mettiamo il nostro assistente. Ok. E gli diciamo, amico mio, ci serve una zona dove costruire una casa. Potresti appiattire tutto? E lui fa, certo, signor Steph e signora Fere. Vi appiattisco tutto, così potete fare. La casa che volete e che preferite. Questo è bello. Perché sai quanto è una rottura di scatole dover appiattire quando devi costruire o comunque quando vuoi una zona carina dove stare? Questa è la cosa proprio peggiore da fare. Aspetta però. Butto la terra in testa. Non gliene frega nulla. Ti ha proprio spotestato immediatamente. Il mio dubbio è, va a mettere i blocchi anche nei punti... Dove sta andando? Ok. Non lo so. Dicevo, va a mettere i blocchi anche nei punti in cui non ci sono. Capito cosa intendo? Sì, che se c'è un buco... No. Allora, gli hai detto di fare questo quadratino, quindi comunque mi sembra... Un 13x13, l'ha rispettato la grandezza. Esatto, sì, esatto. L'unica cosa è che non mette i blocchi che mancano per appiattire e fare la forma perfetta. Però comunque la parte più faticosa, vero, distruggere tutta la colina, lo ha fatto. E lo ha fatto anche abbastanza bene e anche abbastanza in fretta. Ragazzi, riuscite a dire, lasciateci un like. E se la prima volta che avete visto il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri video. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.